Oggi siamo ospiti del ristorante Il Tarin in Fossa Cesia, provincia di Chieti, in Abruzzo. E come Stefano Illiano ci proporrà la ricetta delle panlotte cacierove. Allora, gli ingredienti per quattro persone sono 350 grammi di formaggio misto tra pecorino e parmigiano, 20 grammi di mollica di pane leggermente ammollata nell'acqua, 4 uova, uno spicchio d'aglio e del prezzemolo che è facoltativo. Per far, per far, le panlotte cacierove, C'è bo, c'è bo, L'un furbaccio piccolino, E' bo, e' bo, L'un cuore parmigiano, Per far, per far, le panlotte cacierove. E' bo, e' bo, C'è bo, e' bo, L'un cuore parmigiano, Ma aia, aia, come buzza s'anglio, Che pà trecina, E' bo, e' bo, A miscini, a miscini, a curva germicurina A miscini, a miscini, a buone marmigiane A miscini, a ierche trezine A ierche fine, a proprio fine Vare a busse, per loro regalina A miscini, a palote in gara se deve Queste sono le pallotte, possono essere degustate sotto forma di aperitivo e con una salsa di pomodoro e basilico Volete provare a farle? Se ci riuscite Bene, altrimenti c'è Stefano che vi aspetta con questa delizia Per far, far, per valore, raggiungo